Ciao seguaci di Do Si Va, siamo in viaggio per Santa Fiora, siamo io e Chiara, partiamo molto preparati, molto svegli e pronti per questa giornata dinamica e dedita all'avventura, al duro lavoro e alla grande organizzazione di nuovo perché... Ciao sono Francesco e sto editando questo video, sì lo so non sono Vittorio e tu dirai ma perché non edita Vittorio i video che è così bravo e così simpatico, beh perché Vittorio non ha più il suo computer ed è anche per questo che noi abbiamo perso tantissimi video di Santa Fiora, quindi preparati perché vedrai una cosa rattoppata ma comunque dignitosa. Paese che vai, Dante che trovi Ciao, oggi siamo a Santa Fiora per il progetto Paese che vai, Dante che trovi e oggi a recitare la terzina appunto su Santa Fiora c'è Sara Io sono Sara, faccio parte dell'associazione culturale Melchiades e di ben due compagnie teatrali, ovvero Teatro Schabernach di Montelaterone e Drumroom Teatro che sta più verso Firenze. Adesso siamo a Santa Fiora di cui Dante disse Vieni Crudel, vieni e vedi la pressura di tuoi gentili e cura loro bagagne e vedrai Santa Fiora com'è oscura In realtà qualcuno dice anche che in realtà disse e vedi Santa Fiora com'è sicura o forse e vedi Santa Fiora com'è sicura